È stato un tempo di festa con Papa Francesco, quello che hanno vissuto 21 rifugiati siriani, ospitati poco dopo mezzogiorno per pranzo a casa Santa Marta. 12 di loro avevano già incontrato il pontefice perché è entrato in Italia con il volo che il 16 aprile ha riportato Papa Bergoglio a Roma, dall'isola greca di Lesbo. Gli altri 9 sono entrati in Italia, sempre grazie al corridoio umanitario organizzato dalla comunità di Sant'Egidio e sempre dal campo profughi di Lesbo, il 16 giugno. Con le 5 famiglie di profughi siriani, tra i quali 9 bambini e ragazzi, le 3 persone che sperano di ricongiungersi ai loro cari e ai loro accompagnatori, Papa Francesco ha pregato all'inizio del pranzo. Per questa famiglia ha detto perché il Signore ci dia la pace nella nostra terra. Poi ha ascoltato le drammatiche storie dei profughi e il racconto dei primi mesi di vita in Italia. I bambini hanno regalato al Papa una raccolta dei loro disegni che raccontano la bellezza di avere una casa senza dimenticare gli orrori della guerra. Sono in salvo, ha scritto un bambino siriano su un disegno che raffigura la sua terra devastata dalla violenza, commovendo il Papa. Masa, con la fantasia dei suoi otto anni e mezzo, ha rappresentato il Papa come fosse una farfalla, perché, gli ha spiegato, ci hai portati in salvo verso la pace, sulle tue ali. Anche Francesco aveva preparato un regalo per ciascun bambino, consegnandoli personalmente ha voluto ringraziare tutti per aver avuto fiducia in lui e nei suoi collaboratori. Siete venuti qui, ha detto, senza sapere dove sareste andati. Ha confidato inoltre di essere rimasto colpito dal clima di gioia in cui stanno vivendo queste famiglie, testimoniato visibilmente dalla grande vivacità dei piccoli. Ahmad, che ha un anno e mezzo, e Riad, che di anni ne ha poco più di due, hanno fatto ridere più volte il Papa. Dopo più di un'ora e mezza insieme, il Papa ha ringraziato i suoi ospiti per questa visita e ha chiesto di pregare per lui.